Allora, ciao a tutti amici dello stage di Salò, questo è il tredicesimo anno dello stage, io sono il vostro insegnante Damiano Bisozi di musical e di modern jazz. Niente, io ringrazio in primix Antonella Mandanici che mi ha dato l'opportunità di insegnare a queste splendide allievi e allievi. Allora, questo è il secondo anno io che sono qui allo stage internazionale di Salò, per me è un onore perché ovviamente ci sono tutti insegnanti qualificati di alto livello, sia nel classico che nel contemporaneo e sono onorato di far parte di questo staff ovviamente. Guarda, l'ambiente di questo stage è veramente come se fosse un'unica famiglia alla fine, pian piano si sta insieme una settimana, si lavora, si fanno fare coreografie ai ragazzi e tutto quanto, finché all'ultima serata non si porta ovviamente la coreografia durante lo stage che abbiamo svolto. Niente, ma poi che fai? Cioè, tagli no? No, niente, non tagli, vabbè scusate ho sbagliato, ho finito ora la lezione, scusate sono un po' in desabiglie, però a noi ci piace questo, no? La realtà dei fatti, quindi è tutto sudato e via. Niente, ora sto facendo fare una coreografia ai ragazzi del film Nine, dove io ho preso parte, con la regia di Rob Marshall che è regista di Chicago, li ammireremo il giorno 17, cioè domani, sul palco, dove ho fatto una coreografia di B Italian, allegata a cinema italiano. E niente, io di questo stage che devo dire? Io spero di essere qui tutti gli anni, perché ovviamente mi piace trasmettere la passione di tutti i lavori che ho fatto, ovviamente io faccio coreografie in giro, teatri, tutto quanto, Notre Dame de Paris, Giulietta e Romeo, quindi voglio dare ai ragazzi quello che io ho appreso in questi anni, sia sul palco, da tutte le parti, ovviamente vorrei portare avanti un mio stile, una mia tipologia di lavoro e vedere, vedo che anche qui ci sono dei buoni elementi e cercherò di trovare dei buoni elementi per portarli a lavorare con me in futuro e tutto quanto. Niente, io ringrazio a tutti quanti, spero di salutarvi anche quest'altro anno e saluto la mandanici, c'è Antonella, dal vostro Damiano, qui è tutto, ciao!